Ciao ragazzi, ecco un video presentazione, io e mio fratello. Il mio fratello sta sentendo la musica con le cuffie, che ora si troverà? Perché si ripresenta pure lui? Allora, mi vedo da Giovanni, il mio gemello. Allora, io mi chiamo Danilo Mosca, come già sapete, perché ho fatto la presentazione con il mio cugino, però non mi ripresento. Solo che oggi aggiungiamo in più la famiglia, i cani. Io mi chiamo Danilo Mosca, come già lo sapete di nuovo. Ho un fratello, un gemello, Giovanni Mosca, una sorella da Maria Mosca, mia mamma che si chiama Maria Miranda e mio padre si chiama Antonio Mosca. Ho tre cani, che sono i miei, e uno di mio cugino. Il primo cane che ho avuto è stato un bastardino, il secondo è stato un pitbull a un corso, Attila e il terzo Igor, un pitbull. Poi, mio cugino c'aveva un cane, Marcello, che se l'hanno rubato, solo che io vorrei se ne hai fatto un altro, per il tubulteries. No. Ari, eres. Il ciclo retinos ADBA. ADBA? Lo so meglio di me. Invece il mio è il piccolo retinos, però più grande del suo. No, mi sono svegliato il mio è il DBA, quello di me è il DBA, e quello di me è il DBA, e si chiama Marcello. Che devo dire? Mi sono svegliato due mesi. Due mesi? Due mesi. Usci. Ok, vi passo il mio fratello. Ciao, mi tolgo le cuffie. Si toglie le cuffie. No. Aspettate un minuto, va. Vado, vado. Aspettate un minuto, raga. C'è solo... Tengo le cuffie, guardate. Ecco qua, mio fratello. Ciao, raga. Ciao, sono Giovanna di Morfio. Questo è il mio fratello a cemella. Siamo uguali, ci siamo chiamati. Ma che faremo, Dani? Vabbè, cari che li dice a farlo, siamo uguali. Ehm... Allora, vuoi dire... Un attimo, io vorrei salutare. Questo qua, oltre al video di presentazione, è anche un video per i saluti dei miei amici di scuola. Allora, io saluto... Io saluto... Vado... Io saluto Rosariana, che è una youtuber. Intanto, è l'amica di mia sorella, la voglio tanto bene. Poi, i miei amici di scuola, non so se state su YouTube o no. Allora, voglio salutare Nell'Esposito. Non so se state su YouTube o no. Vedete sì, Diana Truculiak, solo che... Truculiak perché proviene dall'altro città, solo che è nata qui, solo che su YouTube... Non so se si chiama... C'è su YouTube e si chiama Diana Esposito. Poi, saluto Felice e Pugliese, Luigi Cigan, Cristian Peluso, Emanuele Melillo, Emanuele Esposito, Cristian Esposito, Nancy Auriemma, Luizana Nascente, Giulia Carbone, eccetera. Passo il mio fratello. Ciao, io vorrei salutare Rosa Rihanna. Ah, aspettate, mi sono dimenticato, Arcangelo Lucerino, che è come un cugino, e i miei due cugini, Alessandro Mosca, che ha fatto un video con me, e Giovanni Mosca, che forse lo farà. Vai, passo di nuovo. Io vorrei salutare Arcangelo Lucerino, Giovanni Mosca, che si chiama come a me, Alessandro Mosca. Emanuele Esposito, e basta. Ok, finito il video, un grande abbraccio dal vostro Davino. Ciao! Al prossimo video! Pasanguno! Ciao! Ciao! Ciao!